Agricoltura sociale e parametri uguali in tutti i comuni per i piani edilizi. Sono i provvedimenti adottati dalla giunta regionale e presentati dal presidente Enrico Rossi con gli assessori in regione. Novità per la vitivinicoltura con 29 milioni e mezzo destinate alla promozione nei paesi extraeuropei e al reimpianto. E poi via libera al bando da un milione di euro rivolto alle imprese che faranno svolgere attività agricole a persone con disabilità. Il bando è finanziato dal programma di sviluppo rurale 2014-2020 e prevede un finanziamento a copertura del 90% delle spese fino a 100 mila euro. Creare percorsi formativi nell'ambito dell'inclusione lavorativa ma che servono anche ad un percorso di riabilitazione verso chi ha necessità di un reinserimento in questo mondo e quindi avvicina le aziende agricole, al terzo settore, al mondo della disabilità e a fornire delle opportunità. Novità anche sul fronte dell'edilizia dove la regione ha recepito l'intesa nazionale tra comuni, regioni e ministero per unificare i parametri edilizio urbanistici con la stesura del regolamento edilizio tipo che dovrà garantire maggiore omogenità sul territorio in materia di edilizia. Questo è uno dei regolamenti attuativi previsti dalla legge urbanistica 65, andrà all'attenzione della commissione consigliare per poi avere un'approvazione definitiva. Da quel momento i comuni avranno 180 giorni per modificare i loro regolamenti edilizi. Obiettivo della Toscana salvaguardare le esigenze di tutela del territorio senza trascurare le esigenze di sviluppo e di lavoro.